Un caloroso saluto, ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, eccoci qui a scoprire la tendenza per la giornata di mercoledì, perché l'anticiclone interesserà un po' tutto il centro nord della Sardegna, con sole protagonista, ma nel pomeriggio qualche focolaio temporalesco sui rilievi montuosi, in maniera sporadica anche su alcuni tratti costieri del sud. Andiamo a vedere difatti la copertura nuvolosa, ci conferma cieli sereni o al più poco nuvolosi, un po' di variabilità solo all'estremo sud, andiamo a vedere la prossima grafica, i consueti ormai da qualche giorno temporali di calore al sud sulle zone montuose, in locale sconfinamento ad alcuni settori del basso tirreno e della parte ionica, buono altrove, guardate le temperature in pianura padane sulla Toscana anche fino a 32 gradi, giornata calda, dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo. Grazie a tutti!